A sbagliare, a saper ridere e giocare, a stare bene al mondo, a tifare per il bene che è la vera squadra del cuore, a non lamentarmi ma a fare, sempre e comunque, a non aver paura, a credere, a saper ringraziare. Dicono io lo porti nel viso, nei gesti ed anche un po' nella voce, ma mio babbo per me è ciò che mi ha insegnato, è parte di me, della persona che sono diventato.